Allora, stavolta partirò dalla fine per parlare di questo attore, perché comunque la sua filmografia non è così gigantesca, nonostante lui dal 2008 al 2018 è stato l'autore, il conduttore di una serie televisiva, di una sorta di talk show che prende il nome di Between Two Ferns con, per l'appunto, l'attore di cui parleremo oggi che è Zach Galifianakis, ed è una parodia dei talk show americani dove l'attore invitava celebri personalità dello spettacolo, ponendo loro comunque delle domande spesso che potevano essere imbarazzanti, fuori contesto, fuori luogo, e tra gli ospiti più noti vi sono stati attori del calibro di Natalie Portman o Ben Stiller. Poi fu realizzato e prodotto da Netflix un film proprio a riguardo Between Two Ferns. In questo caso, all'interno di questo contesto, per lo più i personaggi che accompagnavano con una regia molto simile a quella del report vero e proprio giornalistico, ci sono molti personaggi, attori, che appartengono all'universo Marvel. Mi viene in mente subito l'attrice che interpreta Capitan Marvel, oppure Benedict Cumberbatch, l'attore che interpreta Ant-Man, che in questo momento mi sfugge il nome purtroppo, e poi anche attori di fama internazionale come possono essere, come è potuto essere, per esempio il film si apre proprio con Matthew McConaughey. Dicevo che partivo dalla fine in questo caso, perché solitamente comincio a parlare prima della biografia, di ciò che ha fatto, ho detto sì qualcosa, ma a livello televisivo, come un talk show, è una produzione Netflix. Ma quello che penso di Zach Galipianakis è che è un attore irriverente, demenziale. Quasi sempre i suoi ruoli sono demenziali. Nel 2011 esce Parto col folle, ed è forse il primo ricordo che ho addirittura prima di Una notte da leoni di questo attore, perché ho visionato prima questo rispetto a Una notte da leoni, e lì è essenzialmente, esattamente come il talk show, fuori contesto, fuori fase anche, demenziale in ogni sua battuta, anche nel confrontarsi con l'altro attore. Questa tipologia di recitazione che porta avanti Galipianakis si avvicina molto a quello che è il contesto degli attori caratteristi, che non sono attori cangianti all'interno delle pellicole, ma che mantengono per lo più lo stesso personaggio. Tant'è vero che molte volte, anche grazie al doppiaggio italiano, noi tendiamo ad assimilare quasi come se Zach Galipianakis non fosse l'attore, ma il vero e proprio personaggio, che non si riesce a capire una differenza tra attore e personaggio. È completamente controverso, poi, nelle sue interpretazioni. Mai un ruolo che non lo sia stato. Si può fare, forse, c'è un fatto per Birdman, perché era un ruolo comunque marginale all'interno della pellicola, dalle regia di Ignarito, che sicuramente conoscerete perché è stato anche il regista di The Revenant, il film che ha permesso a Leonardo Di Capo di vincere il suo premio Oscar. Si mostra come il comico americano, meno corretto, meno politicamente corretto, forse soltanto Louis C.K. è più scorretto di lui, ma hanno una tipologia di comicità molto diversa. Ripetiamo, Galipianakis è demenziale nella sua comicità. È un bravo attore, però, dobbiamo anche dire questo. Non lavori con Ignarito per caso, quindi è capace di contenere magari la sua verve comica e irriverente, sotto certi aspetti, non è comunque un attore versatile. Ciò che ha fatto è sotto gli occhi di tutti, perché chi non lo conosce è difficile non conoscerlo, mettiamola così, perché è nato il 1 ottobre 1969 in North Carolina, quindi uno statunitense. Nonostante il cognome richiami chiare origini greche, precisamente i suoi nonni erano originari dell'isola di Creta. L'attore debutta al cinema, ci mancherebbe, con una commedia nel 2001, che è Heartbreakers, vizio di famiglia, per poi recitare anche sotto la direzione di Sean Penn, Into the Wild nel 2007 e Notte Brava a Las Vegas nel 2008. Si consacra, però, ovviamente, con la famosissima trilogia di Todd Phillips. Todd Phillips, che è anche autore, che è stato anche, scusate, non autore, ma direttore di regia del Joker della DC con interprete Hawking Phoenix. Tra l'altro c'è un legame tra Zack e Galifianakis e il Joker, perché nel 2017 dà proprio la voce al Joker, però, nel film Lego Batman. Una versione del Joker, ovviamente, più fanciullesca, più infantile, però un pubblico sicuramente molto più giovane. I tre film di Una Notte da Leoni segnano definitivamente la carriera di Zack e Galifianakis, perché non solo lo catapultano all'interno di quel personaggio, lo fanno rimanere lì, praticamente permeato nelle membra di quel personaggio, perché molto spesso i suoi personaggi, anche in Masterminds, diciamo così, ci sono dei richiami chiari e ovvi a quello che è stato il personaggio di Alan nella trilogia Una Notte da Leoni. In Una Notte da Leoni affianca anche l'amico, nonché regista, sceneggiatore e attore Bradley Cooper, che ha avuto tantissimo successo per diversi film, l'ultimo dei quali sicuramente è A Star Is Born, che tra l'altro è anche un remake, sono stati quattro remake di A Star Is Born, e la canzone shallow cantata da lui e Lady Gaga ha vinto anche il premio Oscar come miglior colonna sonora. Una Notte da Leoni si insegue per diversi anni attraverso le sue pellicole, perché la prima esce nel 2009, la seconda uscirà nel 2011, la terza nel 2013. Questo personaggio demenziale, irriverente, esattamente come l'attore viene presentato per le sue caratteristiche principali, porta Zach Galifianakis al successo. Ma a me piace ricordarlo per lo più proprio per quello di cui parlavamo all'inizio, che è Between Two Ferns, significa tra due felci praticamente, perché all'interno di questo talk show ci sono gli ospiti, cioè il conduttore che parla con l'ospite, ma sono tra due felci. Questa pianta, questa pianta, non aggiungerei altro sinceramente. E mi piace perché la sua irriverenza non si mostra più attraverso il personaggio, ma si mostra attraverso l'uomo. Ed è proprio lì che noi non riusciamo più a distinguere cosa sia reale e cosa non lo sia. È forse anche un elemento di bravura, devo essere sincero, di quello che porta avanti l'attore statunitense di origini cretesi. C'è poco da aggiungere, perché sicuramente può essere un esempio per tutti i comici che vogliono seguire una linea per lo più demenziale nella loro carriera, o può essere un esempio di un attore che comunque aveva dei sogni, li ha coltivati, ha anche studiato, dobbiamo dire, non solo aspetti comici della recitazione, ma ha studiato anche la drammaticità proprio nel North Carolina e comunque ha investito il proprio tempo per poter migliorare le sue caratteristiche. Zacca Galifianakis è una fiamma, una grande fiamma, che probabilmente potrebbe svilupparsi anche nel contesto drammatico, ma l'irriverenza di cui questa parola ne abbiamo fatto forse anche troppo abuso, si manifesta troppo, forse all'interno della persona, e finisce per consumare delle volte il personaggio. Ora, non lo consuma definitivamente perché non è noioso da sentire, da ascoltare, da vedere Zacca Galifianakis, ma è sicuramente un attore che va stimato e che sinceramente, sinceramente nel contesto artistico, e l'ha dimostrato con Birdman nel 2014, può e deve fare di più. Questo è l'augurio che mi faccio quando sento o vedo Galifianakis in tv, però ripeto, ripeto, Between Two Ferns, tra due felci, è un capolavoro per me della demenzialità e della comicità irriverente, demenziale, controversa e soprattutto, finalmente, politicamente scorretta.